Il socio estraneo alla gestione della società è escluso dalla presunzione relativa alle SRL a ristretta base partecipativa e quanto afferma la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza numero 250 del 2022 commentata da Angelo Sozzi e Lia Paggi sul modulo 24 accertamento e riscossione. Ma andiamo con ordine. Il tema è la presunzione di natura giurisprudenziale relativa al fatto che quando noi ci troviamo in presenza di una società assegnatamente un SRL a ristretta base partecipativa, vuol dire quindi con pochi soci e mediamente sono anche amministratori, nel caso in cui questa società venga accertata dal fisco e vengono individuati dei ricavi non dichiarati, questi ricavi verranno imputati automaticamente ai soci quali utili distribuiti in nero e non tassati. Badate bene che questa tassazione di fatto è doppia perché ci troviamo in presenza di una prima tassazione in capo alla società accertata, quindi vengono individuati dei maggiori ricavi, vengono applicate, calcolate le imposte, irrogate le sanzioni e gli interessi. Poi questo stesso maggiore ricavo viene preso tal quale, quindi lordo, senza scomputare le imposte, le maggiori imposte calcolate, senza applicare ad esempio la ritenuta del 26% oppure senza considerare che fino al 2016 c'era un trattamento per cui gli utili percepiti erano tassabili solo in parte, non applica nulla di tutto questo, prende l'intero importo lordo in buona sostanza e lo ripartisce ai soci in base alle quote di partecipazione. dice la Cassazione che è ammessa però la prova contraria, la prova contraria che si dimostra ovviamente diabolica, perché il dimostrare di non avere percepito delle somme non dichiarate, quindi in buona sostanza, dei ricavi in nero è cosa ardua. Una via d'uscita può essere, come avvenuto in questo caso, dalla dimostrazione del fatto che il socio è del tutto estraneo alla gestione sociale, perché ad esempio è il coniuge che nel frattempo magari si è separato, oppure può dare questa dimostrazione perché, come nel caso di Specie, c'è stato un fallimento, sono state fatte delle indagini di natura penale o in altri casi vengono svolte delle indagini di natura penale, soprattutto quando ci sono delle procedure concorsuali e quindi magari delle intercettazioni telefoniche, che può risultare le straneità di questo socio che magari si lamenta con l'altro del fatto che l'azienda è fallito, che comunque la gestione non era efficiente. Quindi possono essere fornite queste prove contrarie molto difficili, mi viene in mente un altro caso in cui il socio era della società italiana, ristretta base partecipativa, risiedeva in Inghilterra, faceva tutto un altro mestiere rispetto all'attività svolta dalla società e quindi in questa maniera ha potuto dimostrare, si è dimostrato da sé di fatto la sua estraneità alla gestione e pertanto questo tipo di presunzione non gli è stata applicata e l'accertamento conseguente è stato annullato. Gli autori si soffermano anche su un altro aspetto, sempre relativo alla presunzione della società ristretta base partecipativa, è relativo al fatto che tende l'Agenzia delle Entrate con l'Avalo della Cassazione a considerare come utilità in nero distribuita ai soci anche i costi indeducibili accertati in capo alla società. Qui mi ritengo parzialmente d'accordo con la presunzione, perché? Perché un conto è se la società ha sostenuto per sé stessa dei costi poi rivelatesi non inerenti o addirittura magari mediante l'utilizzo di fatture false. Altra cosa è quando la società viene utilizzata per sostenere le spese personali dei soci e o degli imprenditori, magari i viaggi, magari la scuola dei figli. In questo caso, ahimè, ci troviamo di fronte a un'utilità data dalla società ai soci seppur in maniera indiretta, perché quella società ha pagato dei costi per conto di qualcun altro e per i suoi scopi personali, quindi relativamente a costi che nulla hanno a che vedere con la gestione dell'attività di impresa. Quindi anche in questo caso bisogna stare molto attenti perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe imbattersi in questi costi e poi ribaltarli come utili tal quali sui soci che quindi si vedrebbero poi notificati distinti avvisi di accertamento per ognuno di essi. Un caro saluto a tutti.